ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale come potete già vedere in questo video non mi occuperò di perline ma di creazioni in carta che adesso vi mostrerò più da vicino sul mio canale avevo pubblicato due video uno in cui vi mostravi materiali che utilizzo per fare appunto le creazioni in carta ed un altro dove vi facevo effettivamente vedere come io le realizzo quindi non mi sembrava il caso di fare un terzo video anche perché non sarebbe neanche continuato nel senso che dovrei mettere la colla stoppare lasciar asciugare quindi semplicemente nell'info box troverete quei due link che vi rimanderanno ai video dai quali potrete prendere spunto l'intento di questo video era dimostrarvi come con un unico punzono a forma di cerchio potete ricavare ovviamente non solo la forma cerchio ma anche altre tre forme diverse quella della luna in particolare del semicerchio e poi quest'altra forma che io ho chiamata forma di occhio che si ricava quando andiamo a fare la luna quindi quando si fa la luna non andiamo a perdere nulla anzi ricaviamo altri pezzi che poi si possono andare ad utilizzare o per ciondoli o per orecchini e adesso vi mostro come è avvenuta l'idea di questa forma per questo devo ringraziare la mia cuginetta giorgia che saluto eravamo un pomeriggio insieme che ci stavamo divertendo a fare delle creazioni in carta così le è venuta in mente l'idea di fare di ricavare dal cerchio una luna ci ha provato ed eccola qui io poi ho inserito una stella questo perno che poteva somigliare ad un pianeta giusto per essere completi e poi quindi dopo aver fatto la luna si ricavano queste altre forme e possono essere montati sia in maniera orizzontale che verticale e adesso andrò a fare il compagno di questo insieme a voi vi mostrerò come fare la forma poi c'è il semicerchio poi gli orecchini in carta i ciondoli sono davvero leggerissimi non si sentono proprio all'orecchio e questi sono i cerchi allora sposto dal tavolo queste creazioni quindi vi dico io utilizzo questo punzone poi la gomma eva adesiva fogli per scrub booking sono malandati perché li ho utilizzati abbastanza e poi mi aiuto per inserire il tutto con questa pinza che non è quella delle sopracciglia ma è quella apposita per le perline ma volendo si può utilizzare anche quella per le sopracciglia allora per prima cosa per quanto riguarda la luna io allora ritaglio diciamo così due cerchi quindi uno e due quindi due cerchi li abbiamo fatti e poi solo vado a fare un cerchio di gomma eva ma deve essere più deciso il taglio eccolo qui adesso passatemela per buona dopo andrò a tagliuzzare un po con la forbice ma adesso voglio farvi vedere velocemente come fare la forma della luna non sono stata decisa nel tagliare quindi mi assicuro che tutte le parti combacino altrimenti altrimenti anche solo una parte può venire storta quindi mi assicuro che tutto combacia poi prendo la pinza qui non solo perché sono con la fotocamera davanti ma anche ecco quando al di fuori preferisco vedere quando vado a tagliare mi assicuro che tutto si posizioni bene perché se magari è così non viene la punta invece deve essere tutto inserito perfettamente vado anche qui scatto deciso ecco come vedete la luna e poi la forma d'occhio quella che ho chiamato forma d'occhio quindi ne escono due cose poi qualora magari vi rendete conto che la luna la volete magari più snella potete fare in questo modo anche se l'avete già tagliata mi assicuro sempre che tutto combaci ecco alla perfezione prendo in questo modo perché dobbiamo andare a tagliare questa parte poi mi inserisco qui sempre facendo attenzione che si posizioni bene e magari se la voglio ancora più snella mi regolo taglio è difficile ecco in questo modo ecco qui quindi si snellisce ancora di più poi qualora invece voi vogliate fare il semicerchio ovviamente io ho tagliato un po di fogli e gomma eva devo fare attenzione che dalla parte nella quale inserisco sia tutto dritto quindi sistemo bene è difficile perché non è che abbia tagliato proprio benissimo io lo so sono una pasticciona ecco quindi penso sia tutto dritto adesso per quanto riguarda con questo posso anche non utilizzare la pinza o forse è meglio utilizzarla qui la cosa in plastica purtroppo non si toglie mentre le altre l'ho tolta ecco cerco non arrivo a metà magari mi mantengo così assicuriamoci sempre di inserire tutto correttamente e vado qua ci vuole forza che io a volte non ho ecco ed ecco qui anche il semicerchio poi se andate a vedere uno dei due video vedrete appunto come io li realizzo inserisco prima dalla parte adesiva un pezzo di foglio della forma poi applico sopra la colla poi dall'altra parte metto la colla metto l'altra forma e poi ci ripasso la colla e lascio asciugare però ripeto seguendo innanzitutto il video dove vi mostro i materiali lì vedrete cosa utilizzo vi mostrerò anche la pinza che utilizzo per fare i fori che è comodissima e poi nell'altro video vi faccio effettivamente vedere proprio come creo gli orecchini in carta qui quelli l'idea di questo video era quella appunto di farvi vedere come poter fare la luna che magari può essere un diversivo utilizzando un solo punzone appunto perché ce ne sono di diverse forme però almeno io personalmente con la luna così grande non l'ho vista quindi ho trovato il metodo per cambiare per fare anche qualcosa di diverso ecco fatemi sapere cosa ne pensate mi auguro che quest'idea che vi ho dato vi sia piaciuta io ringrazio ovviamente anche la mia cuginetta Giorgia che è grazie a lei che sto condividendo con voi questo video quindi io al momento vi saluto e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti